Carissimi Alessio e Isabella, affidatevi a Gesù. Affidarsi a Lui significa cogliere dalla sua parola la bellezza, cogliere della sua parola l'importanza. Carissimi Alessio e Giorgio Perché il vostro amore è importante che sia un amore espansivo, che sia un amore traboccante dalla vostra casa, un amore che raggiunga tutti e che racconti a tutti l'amore di Dio. Isabella, ricevi questo anello nel segno del mio amore e della fedeltà, nel nome del Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Alessio, ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti! But I don't know where to start